E' con grande piacere che vorrei presentarvi le ultime arrivate in casa d'Otolo Mobili. Sono tre modelli della Stosa Cucine, due Infinity e un modello Young. In particolare in questo momento vorrei presentarvi l'Infinity con apertura mediante maniglia. Questa composizione è stata studiata per essere a livello concettuale estremamente moderna, anche grazie ai colori che abbiamo scelto utilizzare. Cemento Dark e Rover e Sesamo le conferiscono un tratto delle caratteristiche estremamente eleganti, però mantenendo sempre un'area molto sobria. La maniglia Brooklyn, in nero opaco, in assoluto fra le varie tipologie di maniglia, è quella più utilizzata. Chi la sceglie? La sceglie con tutti quei clienti che non amano il sistema di apertura con la gola, però non vogliono rinunciare a dare alla propria cucina una caratteristica molto moderna e estremamente elegante. Di questa ricca composizione sicuramente c'è da apprezzare l'isola, che mediante la pannellatura frontale del modello Linea di Sosa Cucine offre una linea estremamente elegante a questa cucina. L'isola poi viene unita al resto della composizione mediante questo pratico piano snack, di spessore e colorazione diversa, ma del medissimo materiale del top. Modello Infinity. In questo caso abbiamo sfruttato appieno la grande versatilità che questo modello ci offre. Infatti abbiamo utilizzato entrambi i sistemi di apertura. Qui vediamo il sistema con maniglia e invece qui vediamo il sistema mediante gola. In questo caso da notare che le ante non sono in un semplice laminato, ma sono in PET, che è una resina termoplastica completamente atossica. Cosa vuol dire? Che rispetta ogni tipo di requisito igienico ed è estremamente adatta al contatto con gli alimenti. Due novità, due elementi che sicuramente contraddistinguono l'azienda Stosa e il modello Infinity, che sono il pensile con il taglio in diagonale, destro o sinistro, e il led sottostante. E la cappa di vide, interamente in metallo, con un inserto in legno però, in tinta con il resto della cucina. Confido che la presentazione vi sia piaciuta. I modelli che vi ho presentato ovviamente non sono gli unici che troverete qui nella sede centrale di Dotolo Mobili al passo di Mirabella, ma ci sono ben 20 cucine del marchio Stosa Cucine da vedere e da poter visionare qui. Vi aspetto in negozio.